ciao sono il dottor max in questo video ti spiego cosa causa la vista annebbiata durante la gravidanza la vista annebbiata durante la gravidanza può essere causata da una serie di fattori alcuni dei quali sono legati ai cambiamenti fisiologici che avvengono nel corpo di una donna durante la gravidanza ecco alcune delle possibili cause di vista annebbiata durante la gravidanza cambiamenti ormonali durante la gravidanza il corpo produce una serie di ormoni che possono influire sul sistema visivo questi cambiamenti ormonali possono causare secchezza o irritazione degli occhi che a sua volta può contribuire a una sensazione di vista annebbiata fluttuazioni della pressione sanguigna le fluttuazioni della pressione sanguigna sono comuni durante la gravidanza e possono influenzare la vista la pressione sanguigna può aumentare o diminuire il che può avere un impatto temporaneo sulla vista edema durante la gravidanza il corpo potrà tenere più liquidi causando edema gonfiore in diverse parti del corpo compresi gli occhi l'edema degli occhi può causare una visione offuscata o una sensazione di vista annebbiata diabete gestazionale alcune donne sviluppano il diabete gestazionale durante la gravidanza il che può influire sulla vista il diabete gestazionale può causare cambiamenti nella forma della lente dell'occhio portando a problemi di messa a fuoco temporanei aumento della produzione di lacrime durante la gravidanza alcune donne possono sperimentare un aumento della produzione di lacrime che può rendere gli occhi più sensibili e influire sulla visione migrazione della cornea in rari casi durante la gravidanza la cornea la superficie dell'occhio può subire piccole variazioni nella sua forma che possono causare temporanei problemi visivi sintomi associati alla preeclampsia la vista annebbiata o offuscata può essere un sintomo di preeclampsia una condizione grave che può verificarsi durante la gravidanza e che coinvolge l'aumento della pressione sanguigna proteine nelle urine e altri sintomi la preeclampsia richiede un monitoraggio e un trattamento medico immediato se sperimenti vista annebbiata durante la gravidanza è importante parlarne con il tuo medico il tuo ginecologo la maggior parte delle volte la vista annebbiata durante la gravidanza è temporanea e legata ai cambiamenti fisiologici ma può anche essere un segnale di una condizione più seria come la preeclampsia che richiede un'attenzione immediata il tuo medico sarà in grado di valutare la situazione e determinare se sono necessari ulteriori esami o trattamenti grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata grazie a tutti